Viva la musica, viva la musica, viva la musica, che ci fa vivere e sognare, che ci fa vivere e sognare. Viva la musica, viva la musica, che ci ha fatto innamorare, tutti insieme a me. Eccoci al nostro appuntamento a cena con Viva la musica, quindi questa nostra sequenza con canzoni che avete richiesto oggi, con la musica che ci tiene compagnia ormai da tanti anni. Buona preparazione della cena, buona cena, e buona cena con Viva la musica anche al nostro zio Luciano, buon mercoledì. Buonasera a voi tutti, Santa Maria della Neve oggi. Belli i volutini spiaciuti. Li prendiamo dentro, prendiamo dentro quelli. Santa Maria della Neve e poi Dolore raccontato e mezzo cuosolato. Bene, il detto di Frato Indovino, mentre il mio Barba Nera mi dice anche Sant'Emidio. Agosto, Giostra, l'uva, i fichi e la fortuna nostra. Saluto Capitan Mattia che è con noi, il nostro regista, caro, buona pre-cena anche per lei, mi auguro che sia una buona cena. Facciamo vedere qualche personaggio famoso, intanto naturalmente il nostro saluto, il nostro omaggio a Sergio Zavoli, di 96 anni, si è spento questo grandissimo giornalista, proprio nelle prime ore della mattinata di oggi. e quindi, insomma, il nostro affettuoso saluto e ricordo, anche se lo vedrete in tutti i telegiornali. Allora, personaggi famosi di oggi, anche se non c'è più, ma è stato uno dei primi, se non è il primo l'ho mai capito, se ne parla, c'è un po' così. Ma di Atriba, tra i primi a mettere in piede sulla luna, Neil Armstrong, lo sapete, avrebbe compiuto 82 anni, lo vediamo con la sua tuta della NASA, eccolo qua. Poi, caro zio, bravissima cantante, Annalisa Scarrone, 35 anni, rimanendo nel bel canto, Gio di Tonno che ha interpretato un ruolo fondamentale nel Notre Dame di, lo ricordiamo, Riccardo Cocciante, con Lola Ponce, lui compie 43 anni. E poi Jay Hatz, 48 anni, notissimo, rappers, va bene, ecco qua, qualche personaggio famoso di oggi. Allora, caro zio, direi, ah, e chiudiamo anche con un po' di rossi, Monica Setta, che compie 52 anni, giornalista, insomma, che vediamo, non in estate, ma durante tutta la stagione, con Tim Peri, il sabato e la domenica, a uno mattina famiglia, una cosa del genere. Vabbè, auguri, 52 anni per Monica Setta. Allora, caro zio, con che cosa iniziamo? No, con Lambertini, con solo. Solo, per voi. E ti allontani e te ne vai di notte, dentro a un brivido che vola via, quasi mi faccio prendere a botte, dalla noia e dall'ipocrisia. Lento, come un treno in fase di partenza che non pensa mai. Sta portando via i miei sogni e tremo, mentre resto con i miei guai. È un filo sottile che tende la vita. Solo, vivendo, cercando qualcuno da amare per ricominciare. Solo, guardando, ritendo di quello che ho fatto e che ancora farò per me solo. Provo a chiamare anch'esso ormai è notte, sento freddo e mi manca il coraggio. Così mi faccio male da star male. Lui risponde di un resto di ghiaccio. Lento, come un treno in fase di partenza che non pensa mai. Fuggi dai miei sogni e piango, mentre tremo e resto con i miei guai. È un filo sottile che tende la vita. Solo, vivendo, cercando qualcuno da amare per ricominciare. E solo, guardando, ritendo di quello che ho fatto e che ancora farò. Come un temporale prende quello che riesce a bagnare. Devo solo riordinare quel filo sottile che tende la vita solo. Bene, grazie anche alla bella musica di Omar Lambertini. Ricordo che il nostro pubblico durante il giorno, oltre a mandarci le fotografie delle persone festeggiate, ci rimanda in questi giorni anche gli amici a quattro zampe e non solo. Insomma, ieri avevamo dei pesciolini e anche dei pappagallini. Oggi abbiamo, insomma, vediamo la sequenza di oggi che c'era arrivata. Polpetta e Briciola, eccole qua, della nostra Alma che sta facendo la dog sitter, caro zio. Poi Lea e Chanel ed Emi, ecco, Iole anche per lei, naturalmente. Poi vediamo Stella e abbiamo visto Chiro, caro zio, la dolcissima Olga, le caprette Betta e Aidi della nostra Arianna. Quindi abbiamo visto, ecco, poi la nostra Giovanna che ci mandava, che dice non sono mie, passano vicino al canale, vicino a casa mia queste belle papere. Ecco, salutiamo anche Kelly che era la cagnolina di Alma e mentre Ringhio era con noi e anche Merlino, eccolo qua, bellissimi. Poi anche Mimo, Momo e Bianchetto che vediamo in questa foto e abbiamo chiuso con Roy, che era questo bel cagnolone della nostra Maria Rosa. Va bene, allora, un saluto anche, quindi sapete che durante il giorno dalle 11 alle 12.25 se ci siete, insomma, abbiamo modo di ricevere le fotografie e quindi farle anche vedere come abbiamo fatto anche adesso. Che canzone arriva, zio? Una bella canzone, una bella canzone, cumbia dj. Cumbia dj, eccola per voi. Cumbia dj, eccola per voi. Grazie a tutti 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 Suona Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La voce Grazie a tutti Grazie a tutti